Ehi tu, si proprio tu, sai che solo il 9% di voi iscritti a questo canale? E se volete che il mio gatto mangi, vedete di iscrivervi In un nuovo video qui il vostro Flaity e quest'oggi regà andremo a usare un'arma nuova su Palm Blank In realtà c'è da qualche mese però io ci sono arrivato solo ora a testarla Quest'oggi regà andremo a utilizzare il bellissimo SC 2010 L'SC 2010 che andiamo a usare oggi, già dal mirino, si vede che è un po' diverso E dalla ricarica strafiga è ancora più diverso Praticamente regà, questo SC è una versione modificata di quello originale Ha lo stesso danno, stessa penetrazione, cambia solo che ha un po' più di rinculo E costa tipo un po' di più rispetto a quello normale Però fa un po' male, come potete notare Allora, riusciamo a Hello Mi sembra che entra pure abbastanza bene l'Hedgehot con quest'arma Sarò onesto Come vedete anche il danno che fa è assurdo Cioè comunque, da quello che vedo dalle skin degli avversari Mi sembra gente che abbia 120 HP come minimo E comunque vengono non shottati perché ovviamente non shottiamo Però 3-4 colpi a persona e li buttiamo giù Ah, I'm stuck, non ci credo Ok Questo non è accaduto ragazzi, non ci fate caso Andiamo a coltellare questo che mi serve per la missione Chi è che cambia arma? Ma no L'aleato, non ci credo Sentivo qualcuno che c'è già arma All'infinito Ho pensato forse un nemico Quanto sei noioso, Rocco Mamma, che rompicazzo Va bene Rocco Regà, Rocco letteralmente sta andando avanti solo a kill su di me Però gg's bro Se guardi questo video, gg's Niente Rocco is the way Non stiamo neanche giocando così poi male Posso non bloccarmi ogni 2x3 No, non riesco a giocare contro Rocco ragazzi Ha la skill tipo... Che non lo vedo I miei occhi, regà, non sono più quelli di una volta Non lo vedo, non lo vedo, regà, è invisibile per me Incredible, but true Wow, guarda, non lo vedo Poi ovviamente tre quarti d'ora è invisibile E quando finisce adesso invisibile Vieni scioptato Obviously Però nulla di nuovo No, però Cazzate a parte, regà, è veramente forte Sto Rocco Sto Rocco C'è stato un bel headshot C'è stato un bel headshot Non so neanche come l'ho fatto per farvi capire Però mi è piaciuto Unlucky Oof Holy smokes Come on brother Sheesh Sta Marenka Che rega È tutto il game che sta dietro a quel cavolo Di furgone Rega letteralmente Io ho 20 morti Questo game 12 sono di rock Incredibile Ma vero Grazie granata l'aleata Non ci sto capendo niente Ok Sto game è praticamente Buttarsi in mezzo alla mischia E sperare di non venire shottato Ah no Da chi? Ah Act Josh lì Quello è tutto Invece c'è sta Marenka dietro il furgone Poi c'è sta Act Josh Invece che si trova tutto il game Dietro a quella roccia lì E non so una serpe Vi dirò Ho fatto game peggiori Detto questo boys Spero che il video vi sia piaciuto Scrivetemi nei commenti Cosa ne pensate del Del nuovo SC Oggettivamente raga È un'arma Piuttosto carina In quanto a statistiche Non è niente ma niente male È molto simile all'SC normale L'unica cosa che non mi piace È appunto raga il rinculo Il rinculo è veramente strano da controllare Come tutte le armi raga su point blank Non ha nessuna forma di rinculo Basta un minimo controllarlo Però oggettivamente Non mi piace tantissimo Come il rinculo Ci vuole un po' più di skill Per usare quest'arma Non è come l'SC base Mi piace molto di più Il mirino che ha Perché è veramente bello Anche il mirino laser È un grande improvement Però 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 La ricomprerei dopo questi 100 round Non credo proprio Detto questo boys Spero che il video vi sia piaciuto Droppate like Iscrivetevi E alla prossima ragazzi Del vostro Flady E alla prossima ragazzi E alla prossima ragazzi E alla prossima ragazzi E alla prossima ragazzi